Ciao, sono Gerardo Marì, sono il designer e ho fatto queste due librerie, libri sfida, come questi qua, e allora ho fatto anche questo fermalibro, che è anche un trencio oggetti, un po' sabicchiere, che è molto versatile, e un tavolino triplane. Per la libreria volevo trasmettere il concetto di crescita e di movimento, perché come vedete è una spirale che cresce, dove possiamo mettere i libri, e dopo la piccola si sposta per tutta l'estanza, e anche quella favorita, e invece l'altra ruota su se stessa. È più positivo rispetto all'anno scorso, non c'è più questa paura della crisi, che è una cosa bella. Grazie.